11 settimane di soggiorno estivo nel centro polifunzionale San Francesco d'Assisi a Mare Chiaro. Torna il calendario di iniziative messo a punto dall'assessorato al welfare del comune per 550 ragazzi della città. Si parte il 22 giugno, la prima settimana è riservata alla scelta dei tutor che affiancheranno i più piccoli e fino al 5 settembre sono previste attività acquatiche, ludico-espressive e di gioco sport per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Proponiamo delle attività varie che vanno dalle partite di scacchi a yoga per bambini e una serie di altre attività che sono offerte da associazioni che a titolo volontario hanno voluto rispondere ad un avviso che quest'anno abbiamo voluto pubblicare quindi aprendo al territorio, alle associazioni, agli enti, ai comitati anche la possibilità di utilizzare uno spazio come quello di San Francesco di Assisi che è uno spazio meraviglioso. Raggruppati per fasce d'età ogni settimana saranno 50 i giovani accolti presso il centro di Mare Chiaro e provenienti da tutte le municipalità. Per ognuna di esse è previsto un massimo di 50 iscrizioni che dovranno pervenire entro il 13 giugno al centro di servizi sociali della propria municipalità o via mail all'indirizzo in sovraimpressione utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del comune. Questa programmazione in realtà riguarda anche il laboratorio dei burattini, il teatro delle guaratelle che appartengono anche alla nostra storia e quindi una grandissima offerta di attività quest'estate ma anche poi per tutto l'autunno e l'inverno. Alle tradizionali attività di soggiorno estivo del progetto Mario e Chiara a Mare Chiaro si affiancano quest'anno i percorsi laboratoriali e formativi già avviati presso la struttura da parte di enti, scuole e associazioni per adolescenti con particolari problemi o disagi, fondamentale il contributo delle cooperative sociali Orsa Maggiore, Progetto Uomo, Solidee, la locomotiva e il grillo parlante che accompagnano i ragazzi nello svolgimento delle attività.